Donate e che l'autore sarà nella maniera più opportuna e più a favore della cittadinanza che ne ha tanto bisogno. Anche perché so che ci sono un sacco di richieste. Prima che ci si uccide l'acqua, le consegno. Acqua bagnata, acqua fortunata. Dottor Ferrari, si mette di qui. Grazie alla situazione.